3.0 e oggi siamo tornati su Clash Royale pronti per fare un amichevole con salvo saluta, ciao allora questa amichevole consiste in schierare tantissimi pecca anzi facciamo tantissimi scheletrini ok eh si se mi parte io ho la zona e la posso usare? vai vai dai forza Clash Royale ti prego ragazzi ho la fibra come è possibile wifi sono connesso ok dovrebbe partire no ma che è? è piano pazienza 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 83 pazienza pazienza ti prego Clash Royale è lento a me mi dice amico line ok allora fatemi cambiare scheletri allora dobbiamo mettere tutte cose con scheletri quindi lapidi i strattori sono validi lapide al posto del cannone metti il bombarolo non lo metti leva il mini pecca e il bombarolo? no come no? perché poi mi levi gli scheletri poi il bombarolo è sempre uno scheletro e che c'entra? lapide scheletro orda di scheletri tutta la vita al posto degli arcieri ma ce li deniamo sempre strattore devo levare il pecca a tutti i costi ma è strattore cosa ce li deniamo? ah la scarica mettila nel deck no no come no? ce li leviamo scheletro gigante sembra uno scheletro vabbè ma non lo mettere fa danno e anche tutto lo può mettere fa troppo danno ad aria facciamo scheletro e il deck scheletro trattino sgherro va bene metto gli sgherri quindi è mega sgherro e basta vabbè ok possiamo? eh sì uno due tre allora sì vai ok ragazzi siamo carichi pronti forza ok ci siamo io intanto comincio a farti la torre ok non ti difendere come? vabbè no no il pecco è il pecco è il pecco lo dovrei togliere no no non lo tolgo grazie non ci credo non ci credo ma tutto è tutto ma tutto è tutto è tutto come faccio a fargli la torre ma fammela fare la torre come te la faccio la torre così il nostro era accorto no 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 mi fa troppo danno sto qua io me la faccio fare la torre però mi spetta mi fa anche la torre centrale non è vero non ci arriva non fa danno non ti difendere ti prego almeno un mega sgherro mango fa troppo danno però quando fa la torre io metto l'orda ok sto in pressione sto in pressione ma contro la natura di blush ma non è vero no io devo fare il giro del deck anzi devo fare la seconda torre quindi io schierri ho sbagliato si oh faccio piano troppo che danno mi ha sbagliato che danno io ho sbagliato no mi fa sbagliato no io ho sbagliato io ho sbagliato io ho sbagliato non ti difendere no ma mi si perfila il trattore così non posso non difendermi cosa faccio c'è devo farti le due torri a tonno di cocco ma basta sembra che mi ha piuttosto io te la potrei fare però mi hanno esagerato ma prima te lo vedi ma porca mi ha fatto un sacco di donne cosa il mega sgherri come faccio ho fatto i due torri se metti un sacco di lapidi 2-2 3-3 4-3 4-3 5-4 5-6 5-6 6-6 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 7-7 7-7 7-7 6-7 7-8 7-7 8-8 7-8 8-7 9-9 10-9 8-9 7-9 8-9 9-9 i due torri 8-9 10-9 10-9 10-9 11-9 11-9 11-9 11-9 11-9 11-9 11-9 perchè non è più l'immistrattore dell'acqua che non mi fiede no, guarda, devi mettere l'acqua, è l'immistrattore dell'acqua allora tre, due, allora guarda l'acqua qui, lasciamo fare l'acqua piano, 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 basta, mi hai rotto allora ragazzi, scusate, c'è stato un imprevisto, comunque stiamo qua dai, dai, metti estrattori, sa e mettili, fai girare sto deck ora, 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 dobbiamo mettere gli scheletri, veloce, veloce, veloce oh, io metto, ah oh, piano piano, piano ti pare quanti scheletri non li ho mai visti tutti sti scheletri io ma sono pochi sono pochi, sono pochi ora ti mostro la vera scheletrata sì, sì e metti la glone, scusa no, non l'ho messo io non mi difendo, ah, perché tanto non... super attacco scheletrico ne faccio un'altra? no, no vabbè ci vediamo alla prossima ragazzi, con Salvo ci vediamo alla prossima noi continuiamo a fare la partita va bene? uh uh ciao Salvo ciao allora ragazzi, facciamo le nostre partite, forza allora allora ragazzi, siamo contro Sergio a livello 7 speriamo che la connessione non cada come gli altri giorni golem il golem io lo odio quindi siamo a posto allora raga eeeh 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 lui ci ha giocato una mossa veramente buona anzi ci ha fattuto salvo non ce n'è andato ecco però tra poco me ne vado comunque questa mossa io ti consigliavo di mettere eeeh ragazzi ho fattuto ma che cosa è fattuto è fattuto eeeh io il golem lo odio gli giuro che lo odio cioè ragazzi che trovi siamo 1899 speriamo speriamo anzi la combo c'è ora la combo c'è la scintilla c'ha va bene io la blocchiamo subito la scintilla fai cagare oh i danni i danni che gli arrivano alla sua torre sono enormi ragazzi ho fattuto ma la scanturota però lei mi aveva fatto più denino che lui quindi e ha speso lui molto più elisir esilir esilir ragazzi e va bene va bene meglio perché ha sprecato la sua tattica stregone e ma noi riniziamo no perché oh ok ragazzi va bene va bene va bene ci siamo siamo perfetti nooo no niente per ora niente ma non hanno troppo che ti fanno l'aria aiuto aiuto ah santizzerri hai la torre ecco che buio l'hai fatta con me allora c'è ora e ora non è meglio non è meglio ma non è meglio boom verso d'��도록ro e io non ho il coinvolto che è l'altricone di dietro ma l'altra person ma perchè ma perchè no vabbè raga oggi il video si finisce qui subito perché non voglio sfregare Oggi in giornata no Colpa mia Ci vediamo alla prossima Il video di oggi finisce qui Alla prossima Ciao